Il Partito Democratico di Pesaro ha annunciato per giovedì mattina alle 11 una manifestazione davanti al pronto soccorso per ringraziare il dimissionario ex primario del reparto Umberto Gnudi nel suo ultimo giorno di lavoro a Marche Nord. Una manifestazione che contestualmente contesta e chiede spiegazioni all'amministrazione regionale circa la grave emorragia creatasi nei numeri del personale sanitario di un pronto soccorso che passerà dai 38 medici in carica al 1 gennaio 2020 ai 17 che rimarranno in data 1 maggio 2022. La notizia della mobilitazione PD innesca però un'immediata contromobilitazione avversa, quella del neonato movimento Io apro al rinascimento di Vittorio Sgarbi e Umberto Carriera. Proprio Carriera, che figura come segretario nazionale del partito, annuncia che se il PD manifesterà giovedì il suo sostegno a Gnudi, troverà la contomanifestazione di Io apro. Carriera fa infatti sapere come sia inaccettabile il pensiero del sindaco Ricci di premiare Gnudi con una benemerenza. Un Carriera che sottolinea come sia giusta la parabola discendente del dottore dopo le intollerabili parole di odio e discriminazione pronunciate lo scorso dicembre contro chi, secondo Carriera, rispettando la legge ha scelto di non vaccinarsi. Tradotto, se il PD vorrà premiarlo troverà Io apro deciso a contestarlo davanti al pronto soccorso del San Salvatore.